Noi nelle prime due partite avevamo un po' più fortuna e io penso che questa partita è partita male, siamo partiti male, abbiamo preso quei due gol, chiaramente taglio un po' le gambe e poi chiaramente è difficile anche recuperare, loro hanno questa linea fortissima, se non si riesce a tenerla loro segnano. Ma io non è che vedo così male, nello sport si può perdere, si può vincere, abbiamo vinto due, siamo due e uno, adesso abbiamo due chance, possiamo anche vincere, noi chiaramente andiamo fuori a vincere a Fila perché non vogliamo fare la quinta qui in casa, ma semmai abbiamo anche lì la possibilità, io penso alla fine se andiamo avanti come siamo andati in questo campionato abbiamo anche tante chance ancora di superare questa semifinale e il Fila che andrà in finale. Quindi Bolzano a Villa come ci deve andare, con che spirito è che deve andare per eventualmente portare a casa la semifinale e quindi la finale? Lo spirito è quello di contenere un attimino, di essere molto disciplinati, di patinare un po' di più, oggi ho visto anche magari che abbiamo patinato così come al solito e qui devi patinare, andare su ogni disco, se non vai su ogni disco chiaramente tu non puoi vincere la partita, ma io non posso richiamare niente, grazie, grazie fino ad adesso hanno fatto grandissime cose e una partita può essere anche storto, è meglio che non pensiamo più di tanto su questa partita, pensiamo a domani che chiaramente penso a un'altra giornata e altre possibilità.